Noi abbiamo da sempre, siamo stati presenti sul premio Castelfiorentino, premio letterario e quest'anno abbiamo avuto veramente il piacere, siamo stati entusiasti di variare la letteratura con il premio fotografico. Nasce il premio Castelfiorentino per le arti, il primo concorso nazionale dedicato alla fotografia sul tema del lavoro. Pittura, scultura, arti visive, letteratura, poesia, teatro, musica e cinematografia saranno di volta in volta trattate. Partiamo con la fotografia non a caso perché la Banca Cambiano è proprietaria di un archivio fotografico storico molto importante, l'archivio Bastianoni, che è ubicato presso la nostra fondazione e quindi cogliamo questa occasione di premio fotografico per valorizzare anche questo archivio. Il bando si rivolgerà ai giovani per offrire loro la possibilità di esibire il proprio talento. I nuovi fotografi sono cambiati, la fotografia nasce come uno strumento di registrazione che viene nel caso per esempio di David Bastianoni, lui inizia per caso, inizia a divertirsi con la fotografia, oggi invece è diventato un lavoro e c'è una identità del nuovo fotografo e quindi andiamo a vedere come è cambiato il lavoro del fotografo e come sono cambiati i linguaggi della fotografia. Il progetto è curato dalla Cambiano, dal comune di Castelfiorentino e dalla fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, dove il 6 novembre al Teatro del Popolo si terrà la premiazione in contemporanea con l'inaugurazione di una mostra delle fotografie premiate. Spero davvero che sia un modo per avvicinare al premio tanti giovani che a questo mezzo espressivo sono particolarmente affezionati e ne vedono tutte le potenzialità.